Ci siamo, abbiamo riacceso, esistiamo ancora, perché poteva accadere anche questo, chiudere, buttare via vent'anni di sacrifici dell'editore e di tutti i suoi collaboratori che in tutto questo tempo si sono avvicendati, giornalisti, operatori, tecnici, insomma tutti quelli che ci hanno creduto e lo fanno ancora con quello spirito di abnegazione che contraddistingue le persone laboriose, quelle per bene. Possiamo senz'altro affermare che oggi è il nostro secondo anno zero, sì, il secondo dopo il fatidico giugno 2012, cioè il giorno del passaggio al digitale. Nonostante il buio creato dall'atto incivile, vergognoso, abbiamo voluto in questi tre giorni lavorare, facendo quasi finta di nulla, proprio per dimostrare che nemmeno un così spreggevole gesto può piegare persone così determinate. Oggi più di ieri siamo più convinti che una voce libera come la nostra non può restare muta nemmeno solo per un minuto. Lo dimostrano tutti gli attestati di stima ricevuti in questi tre giorni. Per Telemia si sono mobilitati istituzioni, politici, persone semplici, in primis i nostri telespettatori, orfani della loro ormai abitudine, come il nostro TG News o la segna stampa. Oltre mille messaggi inviati via Facebook ed SMS, solidarietà incondizionata e non solo, anche la volontà di aprire sottoscrizioni per aiutare una ripresa immediata della nostra, vostra emittente. La sensazione di essere entrati nel cuore della gente è davvero palpabile e per questo il primo grazie va a voi che non ci avete lasciati mai soli, nemmeno quando siete rimasti al buio. La squadra famiglia di Telemia è oggi più coesa e compatta a lottare contro questi atti deprecabili che hanno messo a serio rischio un'attività lavorativa come la nostra, che garantisce lavoro insieme all'indotto a più di 20 persone. Oggi dunque siamo fortunatamente ancora qui a raccontarvi la quotidianità, la cronaca di questa prima, lunga, interminabile giornata dell'anno zero.